Non dimenticate che non solo a Milano, ma anche al sud, ma anche in Calabria, anche in Periglione, si negava l'esistenza delle mafie. Ma noi attraverso questa ricerca storica che abbiamo fatto, partendo da prima dell'Unità Italia, partendo da uno studio durante il regime polvonico, proprio nell'isola di Pavignana c'erano i detenuti politici, che erano campani, siciliani, calabresi, e i detenuti appartenenti alla criminalità dei delinquenti, all'interno del carcere di Pavignana c'erano detenuti politici. Lì, in quel contesto, in quel lusso, questi criminali hanno copiato, hanno mutuato dai detenuti politici il linguaggio, l'espressione, il linguaggio gritto, cioè quello di parlare per metafore, e in questo modo cercando di creare una sorta di nobiltà di linguaggio e di nobiltà di origine, di quella che, ad esempio, per l'Andrangheta, quella che per la Calabria sarà la vinciotteria, poi nel 1920, Andrangheta, e per la campagna, la Camorra, per la Sicilia, Cosa Nostra. Quindi, sostanzialmente, noi possiamo dire che le origini delle mafie che nascono dall'aver copiato dalla politica. Poi vediamo che, dopo l'unità d'Italia, vediamo sempre più questo rapporto che sono macchia politica. Perché? Perché sostanzialmente le classi dirigenti della seconda metà dell'Ottocento hanno usato, hanno utilizzato la picciotteria, hanno utilizzato i criminali per farsi la guerra politica. Negli ultimi 25 anni vediamo sempre più che sono i candidati che vanno a trovare i politici per avere pacchetti di voti. Perché i politici danno la risposta? Perché? Perché per la terapia della risposta. Mediamente, generalmente, sino ad ora, abbiamo visto sempre più la presenza sporadica della politica sul territorio. Mentre noi vediamo che il Capomagno è sempre sul territorio. Stato a 317 giorni in anno da risposte, risposte parziali, negative, da lavoro nero, da sottopagato, amministra giustizia in modo clientelare e prezzolato, ma dà risposte. Quindi, man mano che nei posti dove soprattutto lo Stato è dirigente, o le macchie sono forti e ricchi, o tutte e due le cose, si ha grande difficoltà all'affermare la legalità. E detto questo, noi abbiamo visto anche intercettazioni dove un candidato al sindaco dice io basta che salgo sulla sua macchina, sul suo forestale, mi faccio vedere una sola volta, passo una sola volta sul corso della città, il gioco è fatto, io sono sindaco. Oppure dice, basta che io la mattina mi metto davanti al bar, lui a prendere un caffè, e stiamo due minuti con lui davanti al bar, ci prendiamo il caffè assieme, il gioco è fatto, io sarò sindaco. Quindi questa è la riprova che le macchie fanno grossi pacchetti di voto, che spostano. Le macchie non hanno ideologie. Le macchie, se voi vedete nelle elezioni, ad esempio regionali, chi vince dice sempre il 70%. Quindi bisogna stare molto attenti, perché quando le macchie perdono le elezioni, cercheranno di salire sul carro del vincitore. Quindi chi vince, e se quello che vince è onesto, deve mettere più lo spinato attorno al carro, altrimenti gli sale la solda, il manco se ne accorge, mentre grida di molestà. Allora, cosa fare, cosa fare per... Perché io ho detto ad oggi, posso dirlo, anche questo governo, oltre ai governi dei geni passati, io non l'ho visto, io ancora ad oggi sicuramente, nei ministeri si staranno organizzando, si staranno guardando attorno, aspettiamo, per il presto dare un parere, una votazione, che staranno un po' vedendo come sono sistemate le stanze, come sistemate le cose, ci volete, aspettiamo. Però io ad oggi ancora non ho visto un progetto, un'idea, una strategia, di cosa si vuole toccare, modificare, se si vuole modificare l'architettura del codice penale, del codice penale, dell'ordinamento pretenziale. Mora prima parlava delle carceri, che non c'è nessuno, dei reati contro il pubblico in Sasson, si va in carcere. Ma non dimentichiamo che due anni fa, per non pagare una multa a parte della comunità europea, e sono state fatte le modifiche normative e sono uscite migliaia di persone per evitare il sovrappolimento e per evitare il pubblico. Guardate che molte carceri, non è che sono raffordate perché tutte le gele sono piene, molte carceri, cioè il sovrappolimento deriva dal fatto che manca la polizia potenziale e quindi molte sezioni delle carceri sono chiuse perché non riescono a controllare per mancanza di personale. E allora, se voi pensate che, e questo è un altro riprovole a questo governo, voi pensate che io quando vedo, ad esempio, i rappresentanti del governo attuale io mi eccito a denunciare, a provocare, vi faccio un esempio. Quando nella mia commissione, cioè, dico questo perché stimo tantissimo, non è un memore, l'altro non lo conosco, ma non è un memore, lo conosco come una persona per bene. E allora, se io, se io vi dico, in Italia ci sono 44.000 uomini della polizia potenziale, ogni giorno 10.000 di questi sono utilizzati per fare traduzione tra esperimenti. Io, tra gli oltre 200 articoli che ho modificato ai codici, che ho modificato solo la superficie, l'occhio, avrò modificato un articolo dove poter era possibile che il detenuto sta in carcere a tornezza e il processo dice che prevede conferenza a potenza. Quindi non c'era il pericolo di fuga, non c'era il pericolo che il detenuto quando è in aula mentre il Tribunale, la Camera di Consiglio e il pubblico mistero avvocato sono a parla a prendere il caffè, può mandare gli uomini di morte. E 10.000 uomini della polizia di dizzera, anziché fare traduzione tra esperimenti, sono stati in carcere a fare il trattamento. Bene, questo articolo è stato approvato nel governo precedente. Ora sapete dov'è? È nel 1000 progetti. Chi l'ha messo in pericolo? Non l'ho messo io. Quindi voglio dire, state attenti perché il tempo passa, i mesi passano, gli anni passano e si rischia di aver dato, lanciato tante aspettative, tante rivoluzioni e poi ci troviamo a parlare di rodetta, di piccole cose, non di grandi serie di... La lotta alla mafia si fa modificando contemporaneamente piccole, medie e grandi cose. Ma prima di parlare di lotta alla mafia, bisogna far funzionare la macchina. Prima di parlare di lotta alla mafia, bisogna far funzionare il processo. Perché quando io ho detto, mi rifiuto di discutere di prescrizione, perché io ritengo che nel 2018, in un paese civile, i termini come prescrizione, amministia, indulto, sanatoria, devono sparire dal vocabolario di liquida gara. Altrimenti non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Se io continuo per amministrare, continuo a usare questi termini, questi termini fanno parte del vecchio, non fanno parte dell'efficienza, dell'informatizzazione del processo. Che voi sapete che l'informatizzazione abbatte i tempi, abbatte i costi, abbatte il potere speciale dell'uomo, quindi è l'abuso. Quindi se io creo un sistema giudiziario, informatizzato, proporzionato a questa realtà criminale, e non si riscrive, perché un legislatore serio non si deve domandare se la prescrizione decorre con l'avviso di rindagini, con la richiesta di giudizio, con il decreto di risposta di giudizio e con la sentenza di premura. Un legislatore serio si deve preoccupare per quale motivo un fascicolo resta fermo in cinque anni nell'armario del pubblico mistero e cinque anni nell'armario del giudice. Questo vuol dire governare, questo vuol dire amministrare, porsi i problemi alla fonte, non a barre. Perché quando tu intervieni a barre, già c'è il tumore, adesso non è l'etastasi.